Come evitare di prendere danno dalle trappole di Indiana Jones Guardate il pavimento, non tutte le pietre sono uguali, infatti quelle più scure in realtà sono delle pressure plate che attiveranno le trappole Ti basterà quindi non camminare sulle pietre rosse ma solo su quelle grigie per non prendere danno Quindi ora potrai prendere il tesoro e sai...